Ciao ragazzi, buongiorno! Sono Gianni di Obifishing, per chi non mi conosce ovviamente, e ho riscontrato con molti amici, molti clienti, che purtroppo fare il nodo sul lamo con la paletta spesso e volentieri diventa un grosso problema. Benissimo, questo problema lo possiamo risolvere tranquillamente con questo prodotto che ci dà la stompo, questa qui è una matita, chiamiamola matita, con il particolare di poter fare rilegare molto bene il nostro amo con la paletta. Quindi adesso ci spostiamo in una ripresa molto più ravvicinata e faremo passo per passo, vi farò vedere come si rega un amo, va bene? Eccoci qua ragazzi, allora intanto vi presento come è composto questo articolo che ci rifornisce l'azienda Stonfo, è fatto in materia plastica veramente molto resistente, ha questa parte qua grigia che si muove, ok? Ha questa rotazione infinita, poi c'è questa parte blu che sarebbe l'impugnatura, in pratica la posizione corretta qual è? Con le due dita sotto si tiene la parte mobile e con pollice indice andiamo a tenere questa parte blu, ok? Vedete che c'è anche queste righette qua che in pratica sono anti scivolo per non farci scivolare le dita, ci serve per roteare tutta questa parte anteriore che poi ci servirà la rotazione giustamente per le spire che andremo a fare sul nostro amo paletta. Qui abbiamo questa rotellina che come potete vedere girandola in senso anti orario mi va a chiudere il beccuccio, in senso invece orario come potete vedere vedete che si apre, quindi girando verso sinistra si chiude, girando verso destra si apre e poi c'è questa parte metallica che si tira in su e ha questo archetto aperto qui invece chiuso, ok? Ci servirà comunque per legare il nostro amo paletta. Adesso faremo una ripresa più ravvicinata ancora e andremo a inserire comunque il nostro amo e vi faccio vedere come si va a far rilegare, va bene? Adesso ci avviciniamo ragazzi, eh? Zoomiamo il tutto e via. Eccoci qua. Abbiamo zoomato per farvi vedere bene i vari passaggi. Allora, apriamo rotando verso destra vedete la bocca che ha questa matita. Poi prendiamo il nostro amo e lo andiamo a inserire in questa posizione così fino a coprire la punta del lamo. Dopodiché girando verso sinistra andiamo a stringere e ci troviamo in questa posizione. Vedete? Questa è la posizione corretta che noi dobbiamo avere. Dopodiché si prende il nostro nylon, ok? Lo si fa passare davanti a entrambi queste due parti qua in metallo, così vedete? Poi lo passiamo ancora dietro e veniamo in avanti così. Va bene? Lo rifacciamo, ve lo faccio rivedere. Allora, prendiamo il nostro nylon, lo passiamo davanti alle due parti metalliche, in questa maniera, vedete? Davanti. Poi lo portiamo dietro su entrambi e poi veniamo in avanti, in questa maniera. Adesso, ovviamente, ci dobbiamo trovare nella posizione comoda per poter ruotare. Vedete? Adesso con questa parte qua noi lo facciamo girare. Questo qua è quello che ci fa fare le spire. Adesso, allora, dietro lo portiamo avanti così e stando ben dritti, cominciamo a girare e facciamo le nostre spire. Fatte le nostre spire, 7, 8, quello che desideriamo, ci fermiamo in questa posizione, ok? Andiamo a passare il nylon sul primo pezzo qua che ha la parte aperta, ok? E chiudiamo. Chiusa, teniamo sul dito, posizioniamo questo nylon davanti alla paletta e andiamo a tirare. Tirando, abbiamo effettuato il nostro nodo. È veramente molto semplice. Adesso prendiamo, liberiamo l'amo, tiriamo e abbiamo effettuato il nostro nodo. Adesso ve lo faccio vedere bene. Taglio l'eccedenza con la forbicina che ho qua. Vado a tagliare l'eccedenza. Vediamo se riusciamo a zoomarlo bene. Ecco fatto ragazzi, questo è il risultato finale. Avete visto che il nodo è uscito fuori perfetto. Adesso lo porto anche davanti. Vedete? Il nylon si è fermato davanti alla paletta in maniera che possiamo avere una ferrata perfetta. Avete visto? È stato veramente molto semplice e molto veloce. Le spire sono state fatte tutte in maniera corretta, come potete vedere dal video. Non è facile star fermi con la mano. Comunque ecco fatto. Nella confezione, adesso aspettate che torniamo indietro con lo zoom, vi faccio vedere che comunque nella sua confezione ci sono i vari passaggi, come potete vedere qua. Passaggio 1, passaggio 2, 3, 4, 5 e 6. Sono i sei passaggi già disegnati con istruzione in italiano anche e anche in inglese. Quindi penso che meglio di così ragazzi veramente non si può fare. Benissimo, io vi ringrazio e ritorniamo per i saluti finali. A dopo. Ciao ciao. Bene ragazzi, come avete potuto vedere abbiamo legato questo amo con la paletta grazie a questa macchinetta a forma di penna. Ok, avete visto come la rotellina che ci aiuta ad aprire il beccuccio per bloccare la paletta. Avete visto i vari passaggi del nylon che dobbiamo fare, come si ruota e tutto quanto e una volta che avete preso dimestichezza, comunque confidenza con questa macchinetta qua, vi posso dire che vi troverete veramente molto molto bene e potrete regare il vostro amo in brevissimo tempo, davvero senza nessun tipo di problema. Beh, detto questo ragazzi io vi ringrazio per essere sempre presenti perché vedo che comunque nel mio piccolo siete in tanti e mi fa molto piacere e vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon mare a chi va a pescare, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e spero che vi sia tornato utile questo video. Iscrivetevi al canale, possibilmente, seguitemi anche su Facebook e ci vediamo. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, alla prossima, ciao, ciao. Ciao.